Le telecomunicazioni sono un settore portante di quello che viene indicato con ICT, cioè Information Communication Technology, e sono considerate al pari di acqua, elettricità e combustibile dei sistemi essenziali di utilità pubblica. Però le telecomunicazioni non è soltanto il trasferimento di dati da un luogo ad un altro, è anche tutto ciò che riguarda la parte di elaborazione, acquisizione e elaborazione dei dati, estrazione di informazioni dai dati, per poter poi essere utilizzati nelle varie applicazioni. Se vogliamo provare a capire cosa sono le telecomunicazioni, proviamo a pensare cosa sarebbe un mondo senza telecomunicazioni. Ora il titolo è un po' provocatorio e dopo vi spiego perché, però se non ci fosse la possibilità di comunicare oggi non avremmo i social networks, non avremmo lo streaming, non avremmo la possibilità di fare chat o videoconferenze, non avremmo quegli algoritmi di compressione che abbiamo tutti nei file audio mp3 o nelle immagini jpeg, non avremmo delle comunicazioni, non avremmo localizzazione che avviene tramite satelliti e segnali trasmessi dai satelliti e non avremmo tante altre cose. Il titolo è provocatorio perché? Perché un ingegnere elettronico, un ingegnere informatico mi potrebbe dire senza l'elettronica, senza l'informatica queste cose non ci sarebbero. Ed è vero, non posso assolutamente obiettare questo. Quindi per cercare di chiarire in modo schematico come è posizionata l'ambito di telecomunicazioni all'interno dell'ingegneria dell'informazione, secondo me una visione chiarificatrice di questa posizione è la seguente. L'ingegneria elettronica si occupa della parte di acquisizione e soprattutto di gestione da un punto di vista hardware dell'informazione. La parte informatica si occupa sicuramente della parte di presentazione dell'informazione all'utente per poter poi sfruttare questa informazione. Noi stiamo un po' nel mezzo, siamo quelli che prendiamo l'informazione, cerchiamo di inventare algoritmi per estrarre quello che interessa da questi dati e soprattutto ci occupiamo di trasportare l'informazione da un luogo all'altro. Detto questo, all'interno delle telecomunicazioni ci sono, se vogliamo semplificare che cosa sono le telecomunicazioni, possiamo individuare quattro area di ricerca. che sono quattro ambiti che come adesso andremo a vedere sono anche molto diversi fra di loro, ma che tutti fanno parte del cosiddetto settore scientifico disciplinare delle telecomunicazioni. Questi ambiti sono quello che possiamo indicare con comunicazioni digitali, ovvero sia il trasporto di informazioni a livello fisico da un luogo a un altro, le reti e internet che è un livello superiore perché l'informazione va trasportata, però va trasportata anche in modo affidabile, in modo sicuro e quindi bisogna progettare la rete per fare questo trasporto di informazioni, quindi progettare come posizionare i nodi eccetera e questo se ne occupa la parte di rete e internet, stabilire i protocolli perché questa trasmissione avvenga in modo affidabile, poi c'è una parte di sistemi di telecomunicazione diciamo anche classici, chiamiamoli il radar, il telerilevamento, l'applicazione dei campi elettromagnetici, d'accordo? E infine c'è la parte proprio di elaborazione dei segnali che è quella che si occupa di rappresentare un segnale, magari in un dominio trasformato, voi siete familiari con la trasformata di Fourier e soprattutto estrarre le informazioni importanti anche in ambito multimediale. Allora, vista questa varietà che è all'interno del settore delle comunicazioni, come è stato organizzato il corso di laurea. Il corso di laurea è stato organizzato con due indirizzi, il primo, rete e tecnologie e internet, si occupa di quello che vi avevo detto prima, cioè la parte di progetto di una rete, come si progetta un protocollo per la trasmissione dei dati, adesso ci sono anche tanti tipi di reti cosiddette intelligenti, poi adesso vedremo degli esempi. la seconda parte invece si chiama, il secondo indirizzo si chiama sistemi di telecomunicazioni ed è un indirizzo in cui ci si occupa, come ho detto prima, più dell'aspetto di trasmissivo a livello fisico, dei sistemi di elaborazione dei segnali, radar, elettromagnetismo applicato, telelevamento. Allora, il corso di laurea, dopo farò vedere schematicamente quali sono i corsi, però questi due indirizzi non sono molto rigidi, nel senso che è possibile personalizzare il proprio piano di studi, scegliendo diversi esami da un percorso verso l'altro e viceversa. Non solo, poi c'è la possibilità di scegliere esami in settori affini, come sono quelli per esempio dell'elettronica e dell'informatica, in modo tale che lo studente alla fine si costruisce un percorso, un piano di studi che è molto personale e uno lo può in qualche modo progettare in base alle proprie esigenze formative. La cosa importante è che al corso di laurea in ingegneria elettronica, scusate, di telecomunicazione, magistrale in telecomunicazione, si arriva senza debiti formativi dai corsi di laurea di ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni, ma anche da quello di informatica. Allora, questi sono gli esami, come vedete in questo pool blu ci sono gli esami che sono a comune, alcuni sono obbligatori in un indirizzo oppure nell'altro, alcuni invece sono a scelta da entrambi gli indirizzi oppure a scelta in uno solo degli indirizzi. Poi ci sono gli esami invece caratteristici di uno o solo dei due percorsi, per esempio la sicurezza delle reti, lo studio delle reti intelligenti e così via. Altri esami invece sono caratteristici solo dell'altro percorso, sistemi di telecomunicazione, per esempio radar, tutti gli esami legati all'elettromagnetismo applicato. E poi, come vedete, qui ci sono la scelta, completano il percorso, la scelta degli esami affini, oltre a due esami a scelta libera, va bene, che è una caratteristica di entrambi i percorsi. Allora, dov'è che poi alla fine queste nozioni vengono utilizzate? Le telecomunicazioni sono una disciplina che si presta a essere utilizzata in tanti ambiti diversi. Quindi l'approccio interdisciplinare è fortissimo nel nostro settore. Qui vi ho elencato alcuni ambiti dove i nostri laureandi possono trovare impiego. Si va dai trasporti, la domotica, automotive, ambito sicurezza, ambiente, spazio, multimedia e tanti altri. Allora, per cercare di farvi capire con degli esempi che cosa si va a fare nel settore delle telecomunicazioni, allora qui ho riassunto, con 5 o 6 slide, ho riassunto per ognuno di quei 4 macro settori di cui vi parlavo prima, ho riassunto alcuni esempi di quello di cui si può occupare, per esempio uno studente che viene a fare la tesi da noi, va bene? Si può per esempio occupare di queste cose che adesso vi vado un po' a elencare brevemente. Allora, per quanto riguarda la parte di comunicazioni e la parte di reti, adesso tutti pensano, vi biate, sentite parlare del 5G. 5G sarebbe la quinta generazione di comunicazioni mobili digitali. È una rete che rispetto a quella attuale è potenziata sotto tantissimi aspetti, c'è più banda, quindi più possibilità di trasmettere dati, c'è un numero maggiore di possibilità di accesso, quindi si possono connettere molti più dispositivi, c'è una molto minore latenza nella trasmissione dei dati. Tutto questo che cosa produce? Produce tutta una serie di applicazioni che attualmente magari non ci immaginiamo neanche. La cosa che non so se sapete è che Prato è una delle cinque città in Italia nella quale sta avvenendo una sperimentazione del 5G, quindi su una rete che adesso non c'è e che ci sarà forse nei prossimi 5-10 anni. A Prato, come sapete, c'è una sede universitaria dell'Ateneo Fiorentino nella quale noi abbiamo dei lavoratori di ricerca e attualmente noi stiamo facendo una sperimentazione, stiamo conducendo delle sperimentazioni proprio sulla rete 5G. d'accordo? Quindi chi volesse fare delle esperienze in un settore, in un campo che ha già un piede un po' nel futuro, questa nostra sperimentazione ne dà la possibilità. cosa ci facciamo con una rete così veloce e con così tanta possibilità di accesso? Per esempio ci possiamo fare il cosiddetto Internet of Things, ovvero sia le cose che si connettono a Internet, le cose che in qualche modo trasmettono i dati senza neanche l'intervento umano. Quindi questo è una rete che è in pratica l'Internet del futuro. Inoltre, altri tipi di reti, che sono anche indipendenti ovviamente dal 5G, sono le cosiddette reti veicolari, ovvero sia reti in cui la comunicazione viene instaurata in modo molto veloce fra veicolo e veicolo, in modo tale che è il veicolo stesso che con il suo movimento trasporta lui stesso l'informazione. Una cosa interessante è una sperimentazione che abbiamo fatto riguardante le reti satellitare. Abbiamo fatto un esperimento in cui una rete satellitare per fare l'alerting, cioè inviare messaggi in situazioni di emergenza, è stata testata, una rete prototipale è stata testata e la rete è stata effettivamente mandata in orbita. Uno potrebbe pensare che mandare in orbita un satellite è una cosa molto complessa, infatti lo è, però adesso, oggigiorno, ci sono dei satelliti che si chiamano CubeSat perché sono dei cubi di lato 10 cm, che hanno un costo ridotto e anche la possibilità di mandarne nello spazio e rendere operativi a un costo effettivamente molto ridotto. Quindi sono state fatte gli esperimenti e questi satelliti sono stati effettivamente mandati in orbita e hanno dimostrato di funzionare. Un altro aspetto importante delle reti sono le cosiddette reti di sensori. Rete di sensori che cosa sono? Sono reti che acquisiscono dati e vengono utilizzate in tantissimi campi. Per esempio, nel campo della salute, le cosiddette body area network, che cosa sono? Sono reti a livello delle dimensioni del corpo umano, in quanto i sensori sono connessi al corpo umano e quindi acquisiscono dati fisiologici che poi possono essere usati in campo salute. Un altro campo molto importante in cui le reti di sensori sono molto usate è quello dell'agricoltura, in cui le reti vengono usate per gestire le risorse, in questo caso le risorse dell'acqua di irrigazione. Un altro campo importante che noi studiamo nelle tese è quello della localizzazione, ovvero sia la possibilità tramite dei sensori, tramite delle reti, di poter localizzare degli utenti all'interno di una certa area e dopo c'è una piccola demo fuori per farvi capire meglio che cosa questo vuol dire e in quale ambito questo può essere utilizzato. Nel campo dell'elaborazione delle immagini, per esempio, nel campo dell'elaborazione dei segnali, abbiamo fatto dei progetti nel campo dell'elaborazione delle immagini in ambito di immagini, per esempio, da una tomografia oculare, in cui siamo andati a eliminare il rumore e siamo andati a comprimere queste immagini. Altri progetti li abbiamo nel campo della ricostruzione 3D a partire da sequenze tomografiche o di risonanza magnetica, qui l'obiettivo è quello di avere delle ricostruzioni più accurate e fedeli dell'organo rappresentato. Un altro aspetto importante è il multimedia forensics, è che è un'area della ricerca in cui si vanno a cercare quando le immagini sono vere o sono dei fake, cioè sono dei falsi, magari manipolati. Perché si chiama forensics? Perché queste manipolazioni a volte vengono fatte in modo innocuo, però a volte vengono fatti in modo, diciamo, per commettere dei crimini e quindi è necessario riconoscere con delle tecniche di elaborazione dei segnali quali sono le immagini vere e quali sono le immagini false. Vado avanti, per quanto riguarda la parte di radar e telerievamento, abbiamo, diciamo, una nosevole esperienza nel campo della meteorologia radar, ovvero sia del radar applicato alla stima delle precipitazioni che possono avere, quindi, diciamo, applicazioni in campo meteorologico oppure anche nel campo della sicurezza, perché immaginate un radar meteorologico montato su un aereo che, diciamo, riesce a prevedere qual è l'entità di una precipitazione davanti a sé e quindi aumenta la sicurezza del volo. In campo sempre di telerievamento importante è il telerievamento da satellite e da aereo. Qui ci sono due esempi di due progetti che abbiamo fatto per la rilevazione dell'amianto e per l'arrivazione dell'inquinamento da CO2. L'ultima slide che voglio farvi vedere per quanto riguarda questi esempi riguarda la parte di elettromagnetismo applicato. Diciamo, qui abbiamo tutta una serie di progetti rivolti, il classico progetto dell'elettromagnetismo applicato è quello del progetto dell'antenna e qui c'è tutta una serie di tipologie di antenne diverse che siamo andati a progettare. Come vedete qui ci sono anche indicati i committenti, sono tutti committenti stranieri perché i nostri laboratori hanno collaborazioni continue con aziende e università stranieri. Qui a sinistra invece un ambito in cui la radiolocalizzazione viene usata invece in un ambiente indoor per localizzare un utente e fornire dei contenuti in base alla sua posizione. Allora, dopo questi esempi vi ho soltanto due parole finali da dire. La prima riguarda il discorso delle collaborazioni. Il nostro corso di laurea, i nostri laboratori di cerca sono in contatto con numerosissime altre università straniere e altre aziende italiane e straniere. Questo un po' perché è un po' come anche gli altri corsi di laurea ovviamente, però la ricerca, essere sempre aggiornati, l'innovazione è fondamentale in questo settore. Qui c'è tutta una lista di contatti che abbiamo e inoltre i nostri docenti, abbiamo dei laboratori che sono stati creati anche congiuntamente con le industrie. Qui abbiamo tutta una lista di laboratori congiunti dei nostri gruppi di ricerca con varie industrie che vedete qui elencate. Non ho slide riguardo il discorso della se un laureando in ingegneria delle telemonicazioni trova lavoro o no, la risposta è sì, lo trova assolutamente. Di continuo siamo, veniamo contattati dalle aziende perché ricercano di continuo laureati in ingegneria delle telemonicazioni ma come anche del resto tutte le altre di ingegneria nel campo dell'informazione. Questo è un momento, diciamo, ormai che dura da tanti anni, è un momento particolarmente di richiesta di ingegneri in questo settore veramente molto forte. D'accordo? Se volete contattarci, ovviamente io sono il referente, il professor Mucchi è il delegato all'orientamento, i contatti li trovate facilmente, potete contattarci quando volete. Grazie. 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 Grazie.